Ciao a tutti! Benvenuti sul canale di Rayana & Rayana! Noi insieme, a tutti voi che ci guardate, ci chiamiamo le... Stelline! E se non siete diventati delle stelline, lo potete fare adesso! Creatutamente! Un forzo di un mostro muscolo lo dovete fare! Appunto! Basta un clic! Iscrivetevi al nostro canale, diventate una stellina e diventate un grande appoggio al nostro canale! Vogliamo diventare una grande famiglia! Allora, perché siamo oggi qua? Per descrivere... Descrivere no! Descrivere e raccontarvi un po' il film di... Dei Me Contro Te! Il quarto film, Missione Giungla! Perché vi abbiamo promesso l'altro ieri! Allora, prima di tutto, descrivetemi questo film... Salute! In una parola! Attenzione! In una parola! Fantastico! Lo so che è difficile, però tu lo hai detto già! Questo film era fantastico! E divertente! Divertente! Bellissimo! Non possiamo scegliere le parole migliori a descrivere questo film, perché era davvero divertente, bello da guardare e ti riempiva di gioia! Come noi siamo grandi, grandi fan dei Me Contro Te! C'è pure il cerchietto! Certo! Eccoli! Allora, come comincia questo film? Comincia a viveriana! Cioè, se non lo sapete, è la regina dell'Egitto che è entrata dentro la scuola! Che quando, se vi ricordate il terzo film, il Pongo ha portato indietro dal passato, lui è il suo film presente, no, dal futuro, dal passato! E' così che ha riportato in presente anche la regina viperiana! E questa regina... Sì, è il suo collega serpente! Ecco! E l'obiettivo di questa regina è? Prendere quattro oggetti magici, dopo voleva, ha visto il libro di Pong, il libro della cosa per... Della vita e della morte! Della vita e della morte! E dopo ha voluto prendere quello! Voleva prendere il libro perché c'ha solo una missione, distruggere... La terra! La terra! Invece, missione di lui e Sofì è salvare la terra! E' così che comincia questa avventura! La regina prende la metà del libro, cioè prende la metà del libro dove c'è scritto la verità per la vita! Per la morte! Per la vita! Invece a loro rimane quella della morte! E' così che lui e Sofì vanno in un viaggio sulla giungla per trovare questa regina principessa veperiana e prendere questo libro indietro! E lì c'è una grandissima avventura, Stelline! E' comica, e' bella! Ci sono quattro canzoni! Una che la canta Pongo all'inizio del film, poi la seconda è Missione giungla di lui e Sofì, la terza è La fine del mondo che la canta Perfidia... A me piace la verità! No Perfidia, scusa! La regina cattiva! E poi la quarta canzone è Ci vado con te, non so dove andare, ci vado con te! E' Senza di te! Sì, Senza di te, non è fare così! E' bellissimo! Un film pieno di avventure, pieno di commedia, pieno di canzoni! Qual è stata la vostra parte preferita, Rayana? Quando vengono rapiti dai pesantosi, dopo diventano i capi del mondo! Sì, vengono rapiti, i pesantosi tipo sono quelli che comandano sulla giungla! Che erano pesantosi perché erano pesanti, grandi, grossi! C'era uno però, il figlio del capo, che aveva due figli, il figlio era troppo divertente, cioè faceva dei balletti e così è finita! Sì, era bellissimo! E la figlia di questo capo, dei pesantosi, diventa amica con lui e Sofia e la loro squadra e combattono tutti insieme per salvare questo porzione magico dalla regina viperiana! Ah, a me è la parte, per me è più bella, è quando la figlia del capo aveva aiutato i... Lui è Sofì, sì! I me contro te! Sì, i me contro te, perché lei ci credeva in loro che insieme salvano questo mondo! E noi eravamo troppo curiosi all'inizio di questo film, prima di entrare, anzi, non sapevamo se ci sarà, signoresse, o non ci sarà! In realtà c'era, signoresse per figlia, ovviamente signoresse, ha realizzato il suo sogno, ha fatto un negozio di giocattoli e per i bambini, che lui ama i bambini, se non lo sapete, e in più, la cosa che ha fatto più ridere del film era il bambino che è venuto sul negozio e ha detto, ehi, ehi, lui ha detto, che vuoi? E lui ha detto, ma perché il negozio è bello e tu sei brutto e viola? E perché, e perché, e perché, e perché, e perché, e perché è così via? Allora, da questo film abbiamo capito che ci sarà il quinto film, perché è finito in quel modo che ci ha fatto capire che questa avventura va avanti, continuerà, non sappiamo quando questo ci vediamo, ce lo diranno lui e Sophie, me contro te, non possiamo farvi spoilerare di più, ve lo diciamo solo che andate tutti al cinema, è bellissimo, per chi è un grande fan dei me contro te, lo consigliamo assolutamente, se ci avete delle domande, scrivete nei commenti e noi rispondiamo, così ci vediamo con un altro video! Ciao!